Martedì 22 ottobre, 6.20 del mattino, 13 gradi e mezzo, destinazione vediamo un po', adesso ci penso, sono molto indeciso tra Cerretto, Prati di Sara e Abettina Reale, vedrò, a dopo. Quota 1600 metri ragazzi, però, pensavo di prendere il cappotto, ma il cappotto lo lasciamo nell'armadio, cosa ne pensate? Bene, primo fungo della giornata, ragazzi, ragazzi, è dura oggi, oggi è dura, eh? Però qualcosa, eh? Qualcosa si fa ancora trovare. Le passi a una drenatura. Dai che sono. Chissà se saranno gli ultimi di stagione o se continuo. Adesso della roba matura e basta, eh, però. Finalmente non piove, eh? Tutta la mattina di tranquillità. Dai. Almeno il cappotto veramente lo lasciate nell'armadio, eh, come ho già detto. Possiamo accontentarsi adesso. Funghi belli, ora non ce n'è in giro. La vedo dura, eh, ragazzi. Oggi sono con un fungaiolo misterioso. Non si sveglia chi è, ok? Dai, però, noi siamo dove si sono i palla di solito. Quest'anno di palla hanno venuti pochi, ma... Dai, questo è bello, eh? Avete. Dai che qualcosina... Eh? Bello questo. Di nascita. Sì, un bel addusso. Un bello scorone. Come lo porta, eh? Il fungaiolo misterioso non si sa. Va bene. Avanti. Qui ha colpito lui, eh, ragazzi, però, eh. Si, eh. Lo fa cavare a me, va bene. Oh! Eh, che bello. Eh, che bel rosso. Mangiucchiato però, bello, eh. Tanta roba. Avete riconosciuto la voce? Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. È lui, è lui. Lo nascio, o lo prendo? Talmente piccola, te fellas. Ah, questo no俺. Poi, a fare 3 o 3 giorni, si ripasso. Questo invece lo prendo. Un bel rosso di nascita. non si sa che è non lo vedete ma si vede da metà in giù oggi oggi è così il fungaiolo misterioso colpito ancora ma colpisce dai un rosso oggi dura ragazzi sono arrivato un dispiacere un dispiacere perché questo è un rosso cramoroso guardate questo è l'enorme è questo che peccato che peccato e vabbè purtroppo andiamo di rosso andiamo di rosso sì sì va benissimo sì sì diamo un'occhiata sotto lì e guardate ma questi questi sono veramente top guardate che bello tatam ragazzi là su c'è il fungaiolo misterioso che sarà ma l'avete individuato vi salutiamo ciao a tutti grazie a tutti